Ci hanno fatto tutta la vita mia, la morte è vicino a me. Non ho paura, non mi muore. Mi hanno paura? No. E se lì porta... E ora, è venuto morto. Aiuto! Aiuto! Io non tengo paura solo perché andrò niente a perdere. Come ti chiama? Ciro. Il suo agione è del ripallo, eh? Allora è vero che il regazerisce. Immortale non uccide nessuno. Questa è un test. E oxitato...